Sarà scritto pure a cazzo vegane, però sono veramente due autori con i coglioni. Ecco, leggete Boris. Siamo tutti, Boris, un libro scritto, lo dice la loro sottotitolo, non bene, attenzione, a cazzo vegane. Scusa, scusami, perdonami, so che per te può essere molto faticoso, è una questione proprio di emozioni, che mi si rompe tutto l'equilibrio. Lo capisco benissimo, che poi è il metodo Strasberg, giusto? No, questo è il metodo dei ragazzi mia.